ciao in questo video parliamo di strategie questa è la presentazione della masterclass e la sintesi del webinar che è stato realizzato qualche giorno fa parliamo di masterclass in finanza e marketing è il primo percorso formativo per creare benessere personale professionale lavorando e creando business perché innanzitutto masterclass in finanza e marketing beh perché queste sono le due leve fondamentali sulle quali ormai da anni ho costruito un percorso di sviluppo di benessere sia professionale che personale poggiando tutte le strategie da un lato sull'aspetto finanziario ovvero aiutare le persone ad individuare le migliori scelte nell'ambito della finanza con particolare riferimento a tutto ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni rispetto ai rapporti con le banche e con le finanziarie dall'altro poi rivitalizzare ed aiutarli a sviluppare un business un business che possa essere sia vista nell'ambito aziendale quindi professionale ma lavorare anche su se stessi infatti la masterclass come vedrai tra poco prevede una forte e intensa attività tutta tutta basata sulla persona bene è un programma di alta formazione in coaching finanziario e di marketing essenziale ricordati queste due parole coaching che è fondamentale la sentirai molto spesso questa parola perché la differenza tra un coaching è un consulente è proprio che consiste proprio quella che nell'ambito dell'attività di coaching ci si preoccupa di trasformare degli obiettivi in risultati in concreti risultati rispetto invece ai formatori ai consulenti che hanno una una finalità di trasferire informazioni punto ma senza ovviamente preoccuparsi che poi vengano messe in pratica queste informazioni e questi contenuti per cui trasformati in risultati essenziale quindi parliamo di marketing essenziale perché perché le strategie di marketing all 80 per cento delle imprese italiane delle strutture delle varie attività professionali in italia possono essere soddisfatte con pochi strumenti di marketing ma quelli che fanno veramente la differenza e quindi questa strategia che è la strategia del valore io la chiamo essenzialità del concetto di base di marketing e anche qui vediamo quali sono è un programma strategico comprensivo di tutti gli strumenti anche qui c'è una caratterizzazione molto forte perché solitamente ti affili a un'organizzazione entri in un percorso formativo poi ti devi preoccupare di acquistare il software di vendere di fare delle attività e quindi diciamo lavori sulla persona e poi devi acquistare tutta la parte strumentale che serve per sviluppare ricavi questo programma di affiliazione include tutto sia la parte di strumenti e servizi utili per sviluppare la tua impresa di successo sia la parte di costruzione di formazione individuale che ci serve poi per migliorare sempre di più e avere e portare questa questi miglioramenti continui nell'ambito di qualsiasi ruolo che ricopriamo nella società ok per cui l'attività è basata sempre su aspetto individuale domande a quale domande risponde la masterclass beh in che modo posso sfruttare le mie relazioni perché è fondamentale che sviluppiamo delle relazioni e su quelle andiamo a lavorare come posso beneficiare del successo di chi ha già raggiunto questi risultati per cui replicare i successi evitando le esperienze negative i fallimenti quindi lavorare su tutto ciò che è stato già fatto da chi ha raggiunto importanti risultati come posso imparare le migliori strategie finanziarie di marketing affinché possa far decollare qualsiasi iniziativa perché il programma prevede non solo che io possa sviluppare la mia startup ma che possa poi replicare aiutare altre imprese altri professionisti a fare la stessa cosa facendolo diventare un'attività come posso sviluppare le mie capacità personali fisiche e mentali per affrontare con successo qualsiasi iniziativa qualsiasi attività come diciamo prima l'aspetto individuale è al centro del programma di affiliazione della masterclass come posso diventare popolare con il mio brand questa è una cosa particolarissima perché tu sai che la riconoscibilità la credibilità la tuevolezza ti porta ad essere identificabile sul mercato e c'è una strategia che è la strategia del valore affinché tu possa essere identificato sul mercato e diventare tra virgolette popolare con il tuo brand quindi con la tua realtà con la tua azienda nell'ambito del tuo segmento come posso sviluppare un fatturato importante per la mia ricchezza personale e qui è una domanda dove spesso soprattutto in questi ultimi anni c'è una grande difficoltà a sviluppare imprese iniziative per cui qui parliamo di un'attività che è basata su un modello su un format certo su un format che ha un'esperienza ultraventennale e che funziona utilizzando un protocollo veramente che nei minimi particolari ti porta da un punto nel quale ti trovi a un punto dove dobbiamo raggiungere cioè dobbiamo raggiungere la trasformazione di quella serie di obiettivi fondamentali trasformandoli in risultati concreti e poi come posso essere leader nel settore delle anomalie finanziarie del marketing questo è un processo naturale che avviene proprio utilizzando questo protocollo comportamentale questo protocollo fatto di strumenti, di tecnologie, di consulenza, di strategie che ti porta ad essere riconosciuto come leader in quel settore quali strategie andiamo ad applicare? bene, vediamo un attimino insieme e incominciamo con Masterclass in Finance e Marketing è un programma dedicato a chi vuole creare una nuova area di business stabile e duratura nel tempo una start-up, una diversificazione aziendale per creare benessere per sé e per gli altri aumentare la propria redditività in modo esponenziale, aiutare migliaia di imprese, cittadini offrendo assistenza finanziaria e strategie di marketing essenziale è un percorso straordinario di 12 mesi che conigua studio, pratica e business a tutti i livelli questi sono tre aspetti fondamentali perché oltre alla pratica, oltre all'aspetto teorico c'è poi la fase proprio concreta di lavoro cioè sviluppare fatturato e ricavi insieme questa cosa una modalità di apprendimento che utilizza un metodo inedito, collaudato basato su consulenza, sessioni di coaching, formazione, assistenza e include tutti gli strumenti necessari per fare business fare business nella finanza e nel marketing imparando, anche se parti da zero, questo te lo assicuro con un format e protocolli condivisi che sono, si tratta di istruzioni specifiche, esempi reali, testati sul campo e di riprovata funzionalità abbiamo ovviamente tantissimi casi insomma questa attività che ti presento e che andremo a fare insieme nel giro di 12 mesi in questo anno, ma che ovviamente continuerà poi per sempre perché questo sarà il primo anno dove incominciremo a mettere su una serie di strategie incominciremo a raggiungere degli obiettivi poi continueremo e ci sarà sempre questa ulteriore evoluzione il programma di la masterclass è centrato, come ti dicevo prima, sulla persona ha un forte impatto di solidarietà sociale e garantisce che è focalizzato su il risultato quindi l'obiettivo fondamentale è trasferire valori e far sì che questi valori, che questi obiettivi che andiamo a identificare insieme diventino dei concreti risultati attraverso appunto un metodo e un protocollo formativo impari, sperimenti, aiuti, vendi, guadagni il programma ti accompagna dal punto A al punto B con la certezza di chi, intraprendendo un percorso di crescita professionale e personale e lavorando soprattutto assieme e individualmente utilizzando strategie di coaching individuale andiamo a sviluppare la migliore strategia per creare una start-up di successo in finanza e marketing questa è la triade di HGM, la mia personale triade che seguo da anni dove alla base abbiamo la persona poi abbiamo il marketing tutto ciò che riguarda il nuovo processo di miglioramento fisico e mentale organizzativo per cui il marketing viene in un ambito molto più ampio sulla persona come life coach e sulle attività professionali come team business coach tutto questo lavorando sulle strategie del valore che poi vedrai più in avanti e tutta la parte finanziaria quindi leva finanziaria, leva di rivitalizzazione crea questo circolo virtuoso che ho definito un circolo virtuoso del benessere che è un miglioramento costante e continuo che andiamo a fare insieme in questo percorso che dura almeno 12 mesi ovviamente tutto ciò che ci dà la possibilità di avere una direzione ovvero la strategia quando sappiamo cosa fare cioè abbiamo una direzione possiamo concretamente migliorare le cose che dobbiamo fare ovvero le nostre azioni qual è l'opportunità della masterclass e di questo programma? sono due sostanzialmente una è nell'ambito della finanza noi abbiamo la possibilità di intervenire in un mercato in grande crescita dove ci sono milioni di contratti di finanziamento di mutui in usura o con anomalie gravi una percentuale molto alta di tassi oltre soglia e quindi usurari oltre 3 milioni di imprese che potrebbero ottenere importanti restituzioni perché la legge prevede che se c'è l'usura se ci sono una serie di reati c'è la possibilità di ottenere restituzioni di importanti somme o in qualche modo contrastare tutto quel fenomeno di disagio e di sofferenza bancaria che vivono imprese e famiglie italiane quindi abbiamo un segmento di mercato molto molto ampio quindi c'è veramente un'abbondanza di grande richiesta da parte del mercato io da sempre ho realizzato i software per poi strutturare questo percorso di sviluppo perché il meccanismo dell'automatismo è fondamentale noi possiamo aiutare più persone se riusciamo ad automatizzare gran parte dei processi quindi cercando di essere rapidi ad esempio nella priorifica dei tassi piuttosto che nella stesura di alcuni documenti che vengono fatti automaticamente e vedrai poi le differenze quando andiamo nella specifica attività della finanza di come fare un mutuo, come fare una perizia come realizzare il documento per Italia quindi la perizia econometrica e questa è l'area della finanza nell'arbitro del marketing abbiamo veramente un'esplosione perché sempre di più le aziende devono essere online devono avere delle strategie social per cui c'è un mercato enorme sia da parte delle aziende ovvero circa 6 milioni di imprese ma anche da parte di tutte quelle di attività professionali di attività commerciali che hanno un'esigenza di essere presenti in rete con una strategia intelligente che è una strategia appunto del marketing essenziale questa è una cosa davvero straordinaria e questa opportunità di queste due aree mediamente è un'attività sviluppata di un partner che al regime ha una piccola struttura produce tra i 150 e i 650 mila euro l'anno di fatturato parliamo di una struttura già con un minimo di organizzazione vediamo perché questo dato ci serve quali sono i valori medi di mercato e quali sono i prodotti che potremmo offrire in queste due aree nell'ambito della finanza abbiamo i progetti cioè ovvero fare dei progetti di fattibilità mediamente sul mercato hanno un valore pari a zero se sono fatti automatizzati tipo faccio una preverifica appunto piuttosto che posso chiedere 500 ma anche di più se vado a strutturare un progetto di fattibilità quindi nel progetto ci ragiono gli metto una serie di informazioni quindi è un ambito diciamo importante di business poi ci sono le perizie che è il documento che serve per incominciare ad intervenire un'azione legale e anche qui i prezzi di mercato oscillano mediamente tra i 1200 euro a salire qui c'è scritto 6.000 ma dipende ci può essere anche una perizia che ha un valore più alto perché dipende se è un mutuo edilizio quindi se è un mutuo fondiario di 20 milioni di euro è ovvio che la perizia può costare molto 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 di più ma mediamente questi sono i prezzi poi abbiamo la consulenza di parte che sono quelle attività di assistenza tecnica che vengono erogate nel corso di una consulenza di ufficio cioè quando il giudice delega un fiduciario tecnico per analizzare i dati poi ci sono assistenza all'avvocato assistenza a supporto legale con le percentuali quest'ultima è molto significativa perché quando proponi una facciamo propone un progetto con una perizia poi sul risultato che il cliente raggiunge c'è una piccola percentuale per cui è significativo anche questo aspetto qua come ricavo ok poi vediamo lo sviluppo di un budget minimale e qua siamo nell'ambito dell'area finanza nell'ambito dell'area marketing abbiamo sempre progetti di fattibilità progetti esecutivi di marketing campagne di direct mail marketing realizzazione di strategie di marketing ovvero la landing page che cos'è un funnel di autorisponditori la gestione dei workflow organizzativi è un ambito davvero trasversale cioè puoi andare dai negozi dal negozio c'è proprio basico per cui tutti commercianti qualsiasi tipo di attività al professionista e alle piccole e medie imprese hanno tutte esigenze che vanno in una gamma di soluzioni che sono davvero si contano cioè sono veramente circoscritte sono dieci cose che devi imparare quelle dieci cose vanno bene per l'ottanta per cento delle imprese ovviamente customizzate gestite personalizzate ma i contenuti fondamentali se noi parliamo di youtube parliamo di facebook piuttosto che di twitter oppure parliamo di una campagna di direct email marketing fatta in un certo modo la maggior parte delle strutture sono quelle poi cambiano i contenuti ma lo strumento tecnologico il media che utilizziamo è quello e nell'affiliazione ovviamente tu imparerai queste cose le utilizzerai innanzitutto per te e poi le metterai in pratica per i tuoi clienti obiettivo strategia del valore ricordate questa parola perché che è un po' il 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 life motive per tutto il periodo cioè dare valore al mercato dare valore ai nostri clienti dare valore a noi stessi quindi arricchire costantemente la nostra vita di valori poi vediamo in particolare che cosa sono questi valori l'obiettivo è di essere riconoscibili sul mercato come persone credibili autorevoli esperti di risultati competenti e capaci per cui questo ci porta ad avere una maggiore popolarità tra virgolette proprio appunto data da questa autorevolezza da questa competenza e da questa esperienza basata su risultati i contenuti delle sessioni della masterclass sono questi quindi abbiamo tante tante cose nella finanza strumenti ordinarie straordinarie fare i contratti nell'ambito del marketing abbiamo tantissimi aspetti e nell'ambito personale abbiamo strategie di coach applicare il coach nella vita in modelli di eccellenza public speaking meditazione benessere sport però lo vediamo più in avanti il partecipante alla masterclass riceve tutta la dotazione per compresa di perizze economiche da vendere mini dossiere progetti offerti da offrire ai propri clienti progetti di marketing running page accessi alla piattaforma privata assistenza tutta la modulistica e le strategie per realizzare questo business sono sette fasi il percorso dura un anno sono sette fasi iniziano subito tre giorni di formazione teoria pratica ed esercitazione dove parliamo di anomalie vediamo le strategie commerciali vediamo l'utilizzo dei software soprattutto sia dalla parte usura bancaria anomalie che dalla parte di marketing iniziamo con questi tre giorni dove sono full immersion fase 2 abbiamo tutto l'accesso ai portali come direzioni tutorial webinar di gruppo comunque sono queste sette fasi le vedrai più in avanti te le faccio vedere perché questo è un video che vi assume vorrei cercare in dieci minuti di darti queste informazioni perché ovviamente poi ci sentiamo entriamo nel dettaglio il webinar è durato circa un'ora e mezza per spiegare queste cose quindi sono sette fasi avremo con intervallata da giorni in aula e webinar e le sessioni diciamo con skype con strumenti multimediali per poi arrivare all'ultima fase dove facciamo una certificazione facciamo un ultimo incontro a Natale come vedi qua per esempio nelle fasi abbiamo il lancio della campagna autunnale facciamo insieme la strategia per la campagna autunnale faremo insieme la revisione del fatturato cioè andremo a vedere tutte le parti poi ci saranno le sessioni individuali di coaching perché ognuno di voi avrà delle sessioni individuali la prima inizia appunto nella seconda fase prima sessione mi sembra che sono otto e arriva all'ultima sessione che è prevista se non mi sbaglio qua la fase sette poi vediamo quali sono questa è una tabella che riepiloga un po' tutto i giorni in aula sono tre giorni a gennaio due aprile uno a luglio due a settembre uno a dicembre ovviamente qui possiamo siltare quei mesi perché questo è un calendario che non tiene conto in modo molto rigido dell'annualità per cui può essere chi parte a febbraio quindi si sposta di un mese e così via ok le call conference cioè sono call conference individuali che faremo una volta a mese ad eccezione di quando c'è l'incontro poi abbiamo video lezioni che sono qua praticamente sempre tutti i mesi ad eccezione dell'incontro uguali i webinar che sono delle attività invece di gruppo video tutorial sempre disponibili perché sono delle lezioni che vanno avanti sempre nei portali che sono meravigliosi coaching individuali queste sono praticamente sono sei le sessioni stratosferiche dove insieme lavoreremo per la scoperta dei tuoi obiettivi del tuo scopo della tua mission della tua vision del tuo piano di azione personale sia della tua azienda e sia di un'area che tu sceglierai insieme valuteremo che può essere quella del lavoro può essere quella personale della salute quella che magari ti desideri in questo momento curare di più attività di laboratorio che sono tutte quelle attività di assistenza tecnica che vengono fornite normalmente dalla struttura HGM la parte arancione qui sono i prodotti che non sono quotati in questo momento la somma di questi servizi da soli hanno un valore di circa 22.455 poi abbiamo gli strumenti per il partecipante portale di apprendimento facilitato che è un portale che con migliaia di informazioni vedete se qua ti posso fare qualcosa materiale didattico e sistemi in cloud per fare le perizie sui mutui finanziamenti sui conti correnti ricalcolo dei saldi e tutta la parte di formazione per l'anomalie e tutta la parte software per realizzare campagne di marketing funnels quiz autoresponditori campagne di em gestione social eccetera eccetera attualmente se vai sul sito di HGM vuoi diventare partner acquistando l'affiliazione con 10 accessi a questo sistema senza tutti quei servizi di prima soltanto con l'accesso al portale ordinario tu paghi 340 all'accesso quindi pagheresti 3400 euro di accesso 1250 euro l'anno per entrare nell'affiliazione usufruire tutti i portali e dei servizi di assistenza quindi tu potresti da un minimo di 10 a un massimo di 100 pagando 21.000 euro ok queste sono soltanto per le anomalie bancarie questo poi ha tutto un altro prezzo e sia autonomo qui sono i valori di mercato che ti ho proposto prima ovviamente orientativi questo è un piccolo budget di un'azienda individuale cioè di una persona individuale non di un'azienda proprio minimale 20 progetti l'anno 15 perizio una CTP 10 progetti di marketing 6 campagne demo ovviamente questo è basato un po' sull'esperienza mediamente fattura 70.000 euro 80.000 euro dedicati tienilo come punto di riferimento diciamo se qua incominci a mettere la struttura allora tocchiamo quei 150 anche 500 poi dipende un po' da come si è organizzato ma qua parliamo di un professionista che facendo veramente una o due perizie al mese porta piccole perizie quindi parliamo di progetti da 2.000 euro quindi parliamo di grandi importi è chiaro che tu nel tuo lavoro poi dipende da come ti muovi ti insegnerò quali sono le strategie migliori è chiaro che se entri in un segmento particolare di imprese con affidamenti più importanti il livello per capita delle attività può aumentare qui non ci sono attività di fidi di successo sull'iniziativa perché nel primo anno è più difficile che tu riesci già a chiudere qualcosa di legale però probabilmente insomma dopo 6 mesi 7 mesi incominci ad avere anche risultati in quel senso e chiaramente cambia lo scenario perché una consulenza dove tu prendi 3.000 euro per una perizia e poi gli fai portare a casa 300.000 euro di recupero al cliente e prendi il 5% o il 7% sono in porso 20.000 euro soltanto per quel cliente quindi questo dato piglia ovviamente come un minimale attualmente quindi il percorso dei servizi che hai visto prima sono 22.455 euro gli strumenti che vengono dati in questa affidazione sono i numeri limitati di accessi al sistema HGM 108 per fare le preverifiche cioè tu puoi per tutto l'anno fare le preverifiche gratuite e stampare il documento progettuale attualmente queste costano 30 euro ogni preverifica quindi viene stimato circa 30.000 euro di valore poi 100 perizie della nuova versione a 350 sono 35.000 euro poi 150 mini perizie che sono dei dossier più economici che sono uguali di fatto vengono utilizzati per le sessioni del quinto per tutte quelle pratiche al di sotto dei 10.000 euro cioè quando tu hai un recuperabile molto basso il pensionato che ti chiede la perizia per recuperare 3.000 euro non gli puoi chiedere 500 euro ma gli chiedi 80 euro 70 euro 100 euro gli stampi il documento l'avvocato fa la letterina e recupera poi 2.000 3.000 euro questo è un documento che si chiama mini perizia qua ne hai 100 e il valore è di 15.000 euro poi hai 10 campagne marketing e 20 landing page valore pro capite complessivo 9.500 e 1.900 poi ti riguardi con calma comunque sono 82.000 euro di dotazione di strumenti per fare ricari la somma di A e B di questi due sono 104.000 euro le affiliazioni sono queste la premium academy 18.000 euro viene data finanziabili anche in 24 rate questa è tutto ciò che hai visto fino ad adesso tutti i servizi quindi tutti quelli elencati il coaching l'attività i portali tutto più tutti i prodotti per sviluppare il fatturato per un totale di 104 18.000 euro la masterclass che è uguale lo stesso contenuto di servizi tutto tutto uguale raddoppia soltanto i prodotti 25 cosa significa che qualsi che trovare 100 perizie trovi 200 perizie 4 per 300 dossier 4 per 20 e 40 quindi raddoppia soltanto i prodotti ma sono i contenuti e i servizi sono perfettamente uguali dei bonus che ho pensato ovviamente sicuramente il secondo partecipante incluso gratuitamente per cui se hai un socio piuttosto che un collaboratore un figlio un collega un amico una persona che vuoi inserire nel progetto che ti dà una mano partecipa al corso gratuitamente insieme a te realizziamo delle landing page per te noi customizzate quindi con il nostro ufficio sviluppo software magari con delle caratteristiche diverse te lo facciamo in uso proprio per lanciare il tuo progetto secondo accesso gratuito alle piattaforme di formazione di HGM per un ulteriore partecipante e poi una stazione tecnologica per lavorare che è composta da un macbook pro e una stampante laser che è l'essenziale per poter essere operativi ovviamente condizioni di pagamento sono quelle che ti ho detto possiamo fare o 5 rate direttamente oppure con la finanziaria però qua poi ci sentiamo e lo gestiamo cosa fare? ci dobbiamo sentire ti spiego ne parliamo per il telefono e decidiamo insieme di partire subito sicuramente tu che stai vedendo questo video che è un video riservato soltanto per pochi 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 intimi avrai tutte le informazioni per contattarmi e fare questo briefing a brevissimo voglio prima di chiudere questo video farti vedere il portale uno dei portali di HGM scusami se andiamo su queste ti faccio vedere uno dei portali dove tu riceverai tutta la suite di formazione è fatto tutto con Kajabi questo portale ecco scusa mi stiamo andando proprio nella parte di ecco qua preview ok tu ricevi l'accesso al portale che questo è il portale ufficiale qua entri nei prodotti qui avrai tutto questi sono tutti i servizi a disposizione cioè iniziando da la suite sui dossier mutui e finanziamenti questo è il corso di formazione per l'affiliato dove ci sono le lezioni tutti i video che incominciano a spiegarti proprio dall'ABC e qua è una lezione devi completarla per andare avanti in questa sessione faremo una panoramica generale sulle funzionalità del sistema qui ad esempio spiega il software per caricare i mutui ok poi andiamo ti faccio vedere qualche altra cosa pure divertente perché oltre qui abbiamo leasing abbiamo gestione dei preventivi le azioni offensive e difensive la differenza tra l'azione offensiva e difensiva magari qualcuno di voi già fa questa attività ed è esperto tuttavia può essere interessante confrontarsi su queste cose bene in questo video andiamo a vedere le cose più importanti ovvero qual è la strategia che devi applicare in relazione a quelle e sono tutte lezioni che vengono fatte che servono moltissimo perché ci allineiamo in pratica a una strategia comune ci sono dei webinar registrati ci sono veramente tante 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 funzioni oltre non so se sono più di 200 video ci sono quindi parliamo mutui parliamo di conti correnti e qui quindi c'è tutta la banca dati c'è tutte le lezioni per la gestione dei conti correnti come si inserisce nel tratto conto trimestrale le caratteristiche dei prodotti come si fa anche qui azione difensiva le caratteristiche delle due fasi e poi qualcosa di divertente magari ovviamente matematica finanziaria qui andiamo un po' per le cose più esperte sono degli interventi molto particolari sul TIR sulle parti da docenti universitari che ci hanno dato l'autorizzazione a poterli inserire che sono stati i nostri ospiti magari in qualche convegno ci sono tantissime applicazioni che servono appunto per dare sempre spiegazioni precise nell'ambito anche commerciale tutto un corso di programmazione linguistica non tanto finalizzato a darti la certificazione ma quanto a far sì che tu possa utilizzare per il tuo lavoro una comunicazione più persuasiva da un certo punto di vista quindi avere una maggiore capacità negoziale e anche tutto l'aspetto che diciamo prima di public speaking che è un'altra cosa molto importante che dovrai fare sicuramente tanto perché nell'attività che andremo a gestire insieme avrai tante cose da fare vedrai che quando parliamo di valori incomincieremo a fare una sessione dove tu registrai il tuo video e incomincieremo a lavorare insieme per la tua notorietà bene il link per vedere il sito lo trovi nell'email che accompagna questo video e ci vediamo ci sentiamo telefonicamente questi sono poi i contenuti della masterclass del programma di business academy del 2017 ovviamente ci sono le affiliazioni ordinarie quelle standard sul sito dove ci sono una serie di attività tutta la parte di coaching e di formazione quella non c'è che rappresenta l'elemento di novità ci vediamo ci sentiamo presto e ci vediamo nella prima sessione in aula ciao ti abbraccio a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.